Stiamo già sorridendo che a bel tempo si spera, perché stamattina lavoriamo Fabio, proprio di fino. Ognuno con quello che sa fare. Ognuno con quello che sa fare e perché no, ognuno con qualcosa di cui si può riappropriare. La tradizione, guardate qua, noi ci spostiamo pian pianino. Anche io vado al lavoro di lavoro. Vai gialla come sempre, perché figuriamoci se Fabio si ferma. Prima cosa, buongiorno e benvenuti alle nostre signore, che io vi presento. Da qui, Maddalena Mariani, sono preparata, Antonella Della Bella e Maria Candida Cenci. Buongiorno. Di cui non posso sbagliarmi, perché questo capello meraviglioso la identifica. Allora, lo state vedendo grazie alla nostra regia. Noi oggi parliamo di cose che hanno fatto grande la nostra tradizione, la nostra cultura. Cose di cui noi ci possiamo anche riappropriare l'arte del merletto, del tombolo. Antonella, posso iniziare da lei se non la disturbo, vero? Innanzitutto che sta facendo? Io sto lavorando il merletto aquilano. Che c'è una differenza tra il tombolo aquilano e il tombolo più tradizionale, l'arto tombolo? Allora, in Italia ci sono tantissime scuole di tombolo, ci sono tantissime tecniche diverse. Stiamo sempre parlando di merletto a tombolo, fatto con i fuselli. Il merletto aquilano è una tecnica diversa da altre tecniche, tipo il merletto di Cantù, che sono una delle più famose, perché è un torsion a fili continui. In pratica noi, quando iniziamo un lavoro, mettiamo tutti i fuselli che ci servono. I fuselli sono queste specie di matitine che voi vedete in questo momento. Quindi noi mettiamo tutti i fuselli che ci servono e lavoriamo in continuo senza mai staccare il lavoro. Mentre invece nel merletto di Cantù si lavora zone, si lavora una parte del lavoro, si stacca il lavoro, si chiude e poi si riattacca, per cui il merletto di Cantù si chiama merletto riattaccato, e si lavora un'altra zona. Quindi si fa pezzetto per pezzetto. Antonella, posso farle una domanda? Perché poi questa è la grande curiosità. Lei, una laurea a lettere moderne, la passione dell'arte ce l'ha avuto, lei è stata anche decoratrice. Lavoravo le vetrate Tiffany. Le vetrate, quindi immaginate, e poi a un certo punto questa passione. Come si accende in lei passione, che poi è diventata un po' il suo mestiere. Sì, è diventata un lavoro all'interno di un'associazione che si occupa di cose. È avvenuta casualmente, mi è sempre piaciuto lavorare con le mani, quindi tutte le tecniche, l'uncinetto, maglia, da ragazzina. Poi con l'associazione di cui faccio parte abbiamo organizzato, organizzavamo una manifestazione dedicata all'artigianato femminile nel periodo in cui io mi occupavo di vetrate artistiche. E c'è stato l'incontro con una maestra merlettaia. Abbiamo organizzato dei corsi e da lì è nato questo amore. Voglio anche dire, l'associazione, stiamo parlando di Zagarolo, questo per dire dove ci troviamo. Alle porte di Roma, una terra tra l'altro bellissima, Antichi Mestieri Futuri. Era un progetto questo in cui vi siete trovati anche invischiati. Perché Antichi Mestieri Futuri dice tante cose, che c'è una tradizione da coltivare, da recuperare, ma che può assicurare anche il futuro. Perché insomma... È una tradizione antica, che fa parte dell'Italia, di tutto il patrimonio culturale dell'Italia. Ma è anche un progetto di lavoro, che può essere portato avanti anche da ragazzi più giovani. Perché questo è un patrimonio culturale, economico, che noi dobbiamo in qualche modo, prima di tutto, recuperare. Ma poi salvaguardare e proiettare nel futuro. Perché il merletto a tombolo può essere modernizzato, può essere portato nelle nostre case anche con oggetti che noi possiamo pensare di usare tutti i giorni. Perché infatti non pensiamo che sia solo cosa, la tavola buona, oppure quando vengono gli ospiti. Cioè certe lavorazioni possono entrare a far parte del quotidiano. Tanto è vero che poi state anche cambiando un po' nell'immaginario la produzione. Mettere il tombro assieme delle novità di cui parleremo dopo. Perché io a questo punto mi sposto leggermente e vado dalla nostra Maddalena Mariani. Maddalena, anche lei, uno, sentendo la sua storia, o dice, forse non aveva le idee chiare prima, oppure si intuisce che quella della lavorazione con questi antichi strumenti è una folgorazione, una passione vera e propria. Maddalena Mariani si laurea in storia dell'arte. Io stamattina siete in tante, quindi io devo fare attenzione a non sbagliarmi con le storie. Si laurea in storia dell'arte. Certo, la difficoltà di trovare uno sbocco è tanta, soprattutto in questi tempi, però la passione per l'Abruzzo lei c'era dentro, perché ci andava a fare le vacanze da piccola. Sì, esatto. È lì che poi ho conosciuto l'arte del tombolo e mi sono appassionata. Dopodiché era una passione tuttavia... Chi l'ha insegnato? Lei dove andava a fare, non dico, dove vedeva questa lavorazione? Io ho conosciuto il tombolo a Pesco Costanzo, appunto in Abruzzo, però era ovviamente distante da casa mia, quindi è rimasto un sogno nel cassetto per molto tempo. e nel 2012 ho conosciuto una persona, Tiziana Rossi, e lei sapeva che faceva tombolo con la tecnica appunto aquilana e mi ha instradato in questa via e mi ha insegnato appunto questa tecnica. Tecnica aquilana, perché come ci spiegava Antone, l'abbiamo detto, questo è il tombolo aquilano, Il suo invece sono i pizzi di Canturino? Il mio è il pizzo Canturino, sì, perché una volta ha preso... Che cosa sta facendo esattamente? Sto facendo un... è un centro al quale attaccherò una stoffa colorata, una stoffa, eccola qui, a quadretti lilla. Oh, allora, prima cosa, cominciamo già a vedere le lavorazioni. Siamo abituati a pensare che i merlettini siano quelle cose delle case delle nostre vecchie ziette, quelle lì che non ti facevano toccare nulla perché sennò si sguaggeva. In realtà voi state portando molta modernità, ma questa poi è la creatività, state combinando dei matrimoni tra... ecco, stoffe modernissime, la prende un attimo quella stoffa, che è una stoffa a quadrettini, semplicissima, molto, molto moderna, diciamo, a cui abbinare questo pizzo, che cosa ne vuol fare? Sì, penso una bomboniera, o un prototipo un po' di bomboniera. Vedi quante idee meravigliose. Quanto tempo ci vuole per fare il pizzo di una bomboniera, per esempio? Immaginiamo che sia una bomboniera. Dipende dalla lavorazione, ma questo penso in dieci giorni. Dieci giorni, quante ore al giorno? Cinque o sei ore. Cinque o sei ore senza mai muovervi dalla sedia, attenzione. Lavorando in casa, quindi si sa bene che poi la casa distrae. L'idea di dover fare anche tanti altri misteri e tante altre cose. Senta, Maddalena, perché? Che sensazione le dà questo lavoro? Perché uno cambia tutto il progetto di vita, in un certo senso, e fa anche tanta fatica, perché lei poi va a studiare a Gorizia addirittura. Esatto, ho intrapreso da quest'anno la scuola di Gorizia. Che è una scuola seria? È una scuola che dura sei anni, al termine della quale poi verrà rilasciato un attestato, quindi una cosa già un professionale. E, non so, a me mi appassiona il tombolo, quindi è una cosa che mi dà piacere e mi rilassa. Giovane, modernissima, insomma, nel mondo mi fa capire che cosa trova in tutte queste lavorazioni, lei? Non lo so, per me è solo la tradizione italiana. È un mestiere che è tipico nostro, ma allo stesso tempo ci accomuna a molte altre nazioni poi d'Europa, perché il tombolo è vero che è italiano, ma si trova molto anche in Spagna, o nelle Fiandre, o in Francia. Come dice lei, d'altronde è una storica dell'arte, è arte, è arte vera da tutelare e da conservare. Io ho sempre d'occhio delle creazioni nuove e sorprendenti, ma a questo punto mi alzo pure, se mi permettete, perché vado da Maria Candida e Maria Candida, buongiorno, Maria Candida, ci porta sempre in questi luoghi incantati. Siamo alle porte di Roma, dove c'è una tradizione palestrina, zagarò, dove c'è una tradizione antichissima. Maria Candida, che mi sta facendo? Tra l'altro il colore di questo, che cos'è? Un centro... Sì, è un centro tavola meraviglioso, meraviglioso. Sto facendo il punto palestrina. Oh, e questo, bravissimi, grande regia, me lo state facendo vedere. Che cos'è il punto palestrina? Io ho letto la storia, ma non ci potevo credere. Il punto palestrina è stato ritrovato circa 110 anni fa, dentro un sarcofago sul Museo Barberini, e hanno ritrovato della stoffa, ma non sapendo che lavoro era, l'hanno guastato punto per punto e l'hanno rifatto. Siccome era stato ritrovato a palestrina, l'hanno chiamato il punto palestrina. E pensate, una città che dà il nome a questo punto, che è un punto bellissimo, guardate che meraviglia, è di un'eleganza unica, devo dire la verità, veramente elegantissimo. Voi procedete su dei disegni che fate voi, oppure li trovate, ve li fanno già... Si possono trovare su dei giornali, poi una magari fa degli ingrandimenti in base a quello che una deve realizzare, perché se è piccolo oppure grande è una tovaglia, e poi si disegnano con la carta, si buchetta tutta la carta con il carbone e poi con la penna per le stoffe. Le donne a casa che lo sanno sono delle maestre, io lo dico per chi non sapesse, quanta fatica, quanta arte davvero c'è dietro tutto questo. Però c'è anche una scuola. Sì. Voi, sì, ci sono le nonne, ci sono le mamme, però c'è anche una tradizione didattica dietro tutto questo. Io ne vengo dalla scuola dell'antica Arze Maria Cicerchia. Mamma mia, che è storia. È storia, perché adesso è chiusa dal 78... Che vergogna, posso dirlo? Che vergogna. Però è stata una scuola molto importante per noi allievi. Ma ci racconti un po' Maria, ecco qua, intanto guardiamo delle foto. Che cosa vi trasmetteva la vostra insegnata? Insomma, la prima lezione, lei se la ricorda ancora? Sì, perché avevo nove anni, ero piccola, e mi fece fare l'orlagione, ma non riuscivo nemmeno a tenere l'ago in mano. Per mia madre, per non tenermi in mezzo alla strada. E' certo. Mi metteva dentro al laboratorio, ma eravamo tantissimi, 40, 50 ragazzi, da nove anni in su. Che cosa voleva da voi la maestra? Che cosa vi chiedeva? Tutto, voleva la perfezione, l'ordine. Poi lei era una persona molto... ti dava sicurezza, che era la cosa più importante. Ci ha lasciato un qualcosa di bello dentro di noi, perché ci ha seguito. Lei era una terziaria francescana. Oltre all'insegnamento del rigamo, l'insegnamento vicino alla chiesa... La vita. Sì, sì. Veramente la vita. Ci ha lasciato un patrimonio. A proposito di patrimoni, Maria Candida, io, se mi permettete, vorrei farvi vedere questo capolavoro. Io me ne sono follemente innamorata. Non so come si faccia nella vita a poter far meno di una cosa del genere. Nel senso, queste sono cose da tramandare, questi sono tesori. Guardate questa tovaglia. Quanti anni ha questa tovaglia? 51 anni. È stata richiamata nel 65. Pensate, a me sembra fatta ieri. Cioè, questa è una tavola di una modernità assoluta. Quanto può valere una tovaglia del genere? Tantissima. Ma ce lo dico. C'è tipo? Buttiamo. Svariate migliaia di euro. Possiamo dire quanto tempo c'è dietro tutto questo? Questo è in sei, sette mesi abbondanti, lavorare otto, nove ore al giorno. Se vi rendete conto di che cosa vi abbiamo portato, noi siamo contenti. Posso chiedere una cosa? Io chiederei alla regia se mi dà una mano. Vorrei passare dall'altra parte, o meglio passo da qui, da qui stesso ve lo faccio vedere, di inquadrare per favore quel tavolinetto dove ci sono tutte le creazioni più moderne. Perché? Perché chi l'ha detto che è di tombola, Antonella, solo centrini. Ci racconti un po' che ci avete portato lì? Intanto esattamente stiamo facendo vedere e inquadriamo. Allora, ci sono degli scialli. Guardate questi scialli che cosa sono. Sempre realizzati a tombolo, questo rosa in particolare è stato tessuto a telaio e poi una parte dell'ordito è stata usata per fare il merletto. Quindi, per capire, bravi, fermate un attimo questa inquadratura. Il bordo che voi vedete è fatto a tombolo, il telaio tesse invece il corpo. Il telaio è stato usato per tessare. È meraviglioso. È ancora lì vicino un altro scialle bellissimo. Tutto realizzato a tombolo. Il merletto verde è la guarnizione di una futura tenda. Di una futura tenda. Ma poi come si lavano? A mano? Tranquillamente. Si possono lavare tranquillamente? Sì, sì. Il regge benissimo il lavaggio. Non ci sono problemi. Noi dobbiamo dirne tutte queste cose perché se uno fa un investimento e vi chiede di lavorare, deve anche sapere poi dopo quanto tempo può durare. Noi dobbiamo partire dal presupposto che il filato, tutto quello che si usa, è di primissima qualità. Ecco, mettiamo i puntini sull'era. Il lavoro è talmente tanto che non possiamo permetterci di rovinarlo con filati e tessuti che non siano di eccellente qualità. E quindi difendiamo anche la materia prima. E difendiamo anche la materia prima. Fabio, questa è arte che però può essere messa in mostra e è arte della quale possiamo anche studiare un pochettino più in particolare. Hai ragione. Vogliamo fare un invito, Lucia? Facciamolo! A chi ci segue c'è anche un pizzico d'anticipo per questa mostra. Siamo a Zagarolo, davvero porte aperte per Tramando Tessendo. Questa è l'iniziativa che sarà possibile visitare il 20, 21 e 22 maggio 2016. Una mostra a mercato internazionale del settore tessile che sarà ospitata fra l'altro in un palazzo meraviglioso che è Palazzo Rospigliosi. Ricordiamolo, un castello del XII secolo. Quindi grande storia di ieri e di oggi. Perché no? Anche dal nostro futuro. Allora, Antonella al volo perché abbiamo pochissimo tempo. Allora, per quanto riguarda la manifestazione e gli ospiti internazionali, quest'anno avremo il Cantzentrum di Bruges, che è una scuola a livello internazionale, ed una designer della Repubblica Sceca da Dana Milkova. Beh, insomma, tutti i motivi per stare. Io ringrazio Antonella della Bella, Maddalena Mariani e Maria Candida Cenci. E ce ne andiamo ad un'altra storia, ma sempre, sempre seguendo il filo. È un filo bellissimo che ci porta alla storia di Luisa Spagnoli. E quanto filo ha tessuto anche lei. Il nostro Luca Rossi.